Ciao da Massimo, siamo in Tezzove, Grandosè di Riccione, sono Juanita Campagnolo e George Aaron. Benvenuti! Ciao Massimo, ciao a tutti, un saluto! Buonasera a tutti! Come stai? Come state? Bene, molto bene, grazie. Siamo felicissimi di essere qui, in vostra compagnia. Un saluto netto in te. Bene, bene. George, vedo che sei pronto con la chitarra. Sì, devo accordare, devo accordare perché stasera andiamo da vivo. Sì, sì, ciao. Ciao, ciao, ciao a tutti. Sì, stasera sto sognando al vivo e quindi devo accordare la chitarra. Vai, facciamo un accordo in diretta? Ci ha accordato? No, dobbiamo accordare un paio di corde. Ah, ancora? Perfetto. Più o meno sì, va. Ok. Basta così? Vai, vai, sì, sì, lo fa accordato. Insomma, una bellissima edizione con dei cambiamenti importanti e si dà valore anche a un lato nascosto dell'artista. Esatto, stasera si va del vivo. E questo è spettacolare, vero? Esatto. Ma sei emozionata? Eh, sempre. Bisogna sempre essere emozionata. Le emozioni, se mancano quelle, manca il senso. Sì, 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 sì. Ebbè, la musica è emozione. Se non ti emozioni non serve a nulla. Puoi sentire suonare. E qua diventa perché andiamo in antitesi con quello che sentiamo. Sì, effettivamente sì. Dai, però un saluto veloce ai nostri amici. Un saluto carissimo a tutti gli amici che ci stanno seguendo. Noi siamo anche noi membri, vero, del gruppo. Esatto. Siamo fra i primi iscritti, tifosi di Massimo Martelli. Quindi siamo venuti questa sera per incontrare Massimo Martelli. Soprattutto. È un'ottima occasione. Continuate a seguirci in tutti i social, ovviamente. Certo, certo. Esatto. Grazie, grazie a tutti. Grazie a voi. Ciao. Grazie a voi. Ciao. Ciao, ciao.